Le etiche medievali. L'Occidente latino-medievale abbraccia i principi del cristianesimo e della sua etica. All'interno di questo quadro comune si individuano, tuttavia, delle differenze fortissime che traggono origine dall'accentuazione di elementi diversi del cristianesimo, dal contatto con nuove fonti, Aristotele in primis, dagli sviluppi della spiritualità. Le differenze tra le varie concezioni etiche ruotano attorno ad alcuni interrogativi di fondo, quale possa e debba essere l'impegno dell'uomo in questo mondo, quanto l'uomo sia in grado di compiere il bene con le proprie forze, o quanto necessiti della grazia divina, quale sia facoltà motrice delle scelte umane. Un secondo aspetto importante dell'etica medievale riguarda l'etica in quanto disciplina. Da un lato, infatti, la stretta connessione con la dottrina cristiana fa sì che i temi etici siano inclusi o trattati in un contesto teologico. Dall'altro, la lettura dell'etica nicomacea di Aristotele stabilisce un campo di indagine con una sua indipendenza, almeno per molti autori. Perciò l'etica acquista un'autonomia come disciplina, testimoniata dalla lettura dell'etica aristotelica alla Facoltà delle Arti dell'Università.